Straordinariamente in notturna è immortalata dalle telecamere della CNN, una delle più importanti emittenti televisive internazionali. La notizia, ormai diffusa ampiamente dalla nostra emittente, riguarda la battitura di Ponteburiano in calendario per il 30, 31 agosto e 1 settembre. Sarà la 43esima edizione. Siamo stati contattati da Londra, spiega Gualberto Gualdani, membro dell'organizzazione. Hanno detto di aver letto di noi su internet e di essere rimasti impressionati e incuriositi dalla nostra manifestazione. Ovviamente ci sentiamo tutti molto onorati e siamo certi che questa opportunità servirà a far conoscere meglio le nostre tradizioni anche fuori dai confini nazionali. Abbiamo dovuto spostare la data per riuscire a farla coincidere con la loro agenda, ma comunque ci siamo riusciti e adesso siamo pronti. Da quello che abbiamo capito, il loro servizio sarà incentrato soprattutto sulla civiltà contadina e sulle sue tradizioni. Sicuramente seguiranno tutte le fasi della battitura dando spazio al lavoro dei tanti che ogni anno vi partecipano. Uno degli aspetti che più li incuriosisce è quello legato alla cucina e ai piatti tipici della tradizione. Quindi è plausibile che anche la squadra, detta alle preparazioni, dovrà mettersi al lavoro per riuscire al meglio.